Ma è stato un problema, perché sono strani che ci pensiamo che ci pensiamo che ci pensiamo che ci pensiamo per me. Si inizia la spedizione, alla parte il mondo, la facciamo sulle tasse, sulle pesce, iniglie e inizia, l'uomo di gatto, no, vai vai, mani e impalliti, non sul femor, Maracaibo Fuggiresti ma tu Come? Zalzà Come? Zalzà Come? Zalzà Come? Zalzà Ma siamo giù tutti Zalzà